Allora siamo con Sergio Cocossa, proprio atletico dell'Atletica Due Punti. Allora Sergio, dici qualcosa. Dunque, facciamo lezione con i runners del Due Punti il martedì e giovedì alle 13.30 e non disdegniamo tutti quelli degli altri sport che hanno bisogno di preparazione dell'Atletica Tennis, nuoto, calciatori, calcetto. Bocca al lupo a tutti. Grazie Sergio.